Il giornale riportati a seguito delle rapine effettuate, il pagame delle rapine del 25 aprile, del 13, 15, 17 maggio, 25 aprile, 25, 26 aprile, 25 aprile, 13 maggio, 15 maggio e 17 maggio. L'ultima è quella invece, non è quella di Monteluce, è quella di Diario e Filosofi, la farmacia fa un'altra parte. Quando è stata quella del giorno? Allora, questa invece è un articolo di stampa che è preso dal web. Farmacia Monteluce, so, 25 aprile, 13, 15, maggio, sempre farmacia, e il 17 maggio invece cambia farmacia, rapinatore e rapinante.